Oggi è stata Galal, simpaticissimo, preparatissimo, la nostra esperienza giornaliera è stata molto positiva, abbiamo visitato la Valle dei Re, delle Regine, adesso ci troviamo al Tempio di Luxor e prima abbiamo visitato Karnak, il Tempio di Karnak, una giornata favolosa, caldo, sole, mangiato, bevuto e finito, e l'attraversata sul Nilo che è stata un'idea ad hoc di Galal, grazie, ciao ciao, a domani, chissà.